Ciao a tutti, direttamente da Cagliari, lei è? Aio, aio! Ecco qui, ecco, bene, sì, sì. Ieri era un supereroe, oggi è un super sardo, ma soprattutto un super pirla, eccolo qua. Va bene, è emozionante, saluto Gianluca Rossi, parlando sempre in casa Inter, l'assessore Marnati, da casa, salve! Buona cominciata! Però non arriviamo al dio tutto. Comunque il Cagliari sulle gambe, si è visto l'azione prima, gli ha lasciato due metri. Attenzione, pallone ancora davanti. No, ma è vero, sono l'interno. Lucacco, palla dentro, attenzione la personaggio. È vero! È vero! È vero! È vero! Che bella azione! Che bella azione! Che bella azione! E di abbiaggio, di gioire a metà, e di comprarsi la tv, e guardare l'azione con cui l'Inter va in porta. E poi arriva addirittura Conte a buttarsi sul gruppo di giocatori per il gol di Darmian. L'onda monoplex, via! Allora, nasce tutto nel settore destro, dove sfonda Hakimi, dico bene, un dai e vai con Lukaku. Hakimi entra in area, mette la palla a tagliare nel secondo pallo dell'area piccola. Allora ve lo faccio vedere molto bene. Qui c'è Hakimi, che dà palla, fate attenzione a Darmian qui, Hakimi qui e Lukaku qui. Hakimi dà la palla verso Lukaku. Lukaku chiude bene il triangolo qui. Hakimi arriva in questa zona, vede Darmian dalla parte opposta, rasoterra che taglia tutta l'area piccola, senza che possa intervenire il portiere. E la palla, poi il Darmian deve solo buttarla in fondo al sacco. C'è Conte inquadrato, non ho capito con cosa sta. Ha bisogno di litigare con qualcuno. Stava andando a litigare con qualcuno. Ha bisogno a tutti i costi di litigare con qualcuno, ma non si capisce chi. Non c'è Maresca. Attenzione, pallone, adesso che Lukaku difende. Finita, finita. Ed è finita. Antonio, andiamo! Undicesima vittoria! Undicesima vittoria consecutiva! Andiamo verso il tricolore, ragazzi! Con qualche patema d'animo. Criticateci, ma noi vinciamo! Andiamo avanti così! Passi al centro estetico, via! Va bene, va bene, va bene. Allora, la classifica dice Inter 74, non avevamo dubbi in merito, anche se la partita è stata più complicata del previsto. Cagliari 22.